Forse sono stato frainteso, non ho detto Lars non lavora, poi tutti speculano, ho detto c'è da portare avanti questa cosa sui precari, su cui una parola va detta una volta per tutte. Mi auguro che nessun uomo in mala fede voglia speculare, fare demagogia, forse perché preso dall'invidia, non lo so da che cosa. Una volta fatto questo, penso che si potrà fare martedì, mercoledì, se l'assemblea passa al bilancio della finanziaria, si fa il bilancio della finanziaria, se per una ragione o per un'altra ci vuole più tempo, modifiche, allora è chiaro che si va all'esercizio provvisorio e si slitta al mese prossimo e nelle cose ne abbiamo 10, carità, se la settimana prossima si passa al bilancio della finanziaria, per quanto mi riguarda i deputati, il governo, a cominciare gli assessori competenti, sono pronti a lavorare anche, ma non è una corsa a chi lavora di più o di meno, per carità se c'è questa scelta concordemente assunta, noi siamo pronti a fare nostra parte. Per quanto riguarda il precariato, noi non faremo e non abbiamo fatto più nuove assunzioni in due anni, voi pensate che il Presidente della Regione che viene dipinto come colui il quale fa clientelismo, fa assunzioni e quant'altro, non ha interesse, non aveva gli strumenti per assumere gli amici, i clienti, i grandi elettori etc., abbiamo fatto una scelta responsabile che sappiamo che ogni posto di lavoro dato all'amico ne fa emigrare 10 di fratelli siciliani o di amici siciliani, basta, però se c'è gente che costa X e non deve costare un euro in più, è precaria da 15 anni, perché non dovremmo stabilizzarla, non la licenzieremmo mai, perché dobbiamo andare a Chiera, le lemosine a Roma ogni anno, non ci danno una lira e dobbiamo dirgli grazie perché ci consentono di fare ulteriori proroghe, l'anno prossimo che sappiamo come finisce, se queste proroghe saranno concesse, saranno consentite, ecco perché noi stiamo facendo una cosa bellissima, altro giorno quando abbiamo firmato i primi contratti per questi commessi che lavorano col Presidente della Regione, ho visto una foto, una riproduzione di un quotidiano dell'89 in cui c'erano i nomi di questi precari che anno per anno devono andare a bussare alla porta del potente di turno, Presidente della Regione, politico, assessore, fatemi la proroga, sempre con la testa abbassata e col condizionamento di chi o mi dai il voto o non ti faccio, no, ho gente libera, magari saranno grati per un giorno, per un mese o per niente, ma è giusto che sia così, hanno riconquistato da questo punto di vista la sicurezza, la serenità e la libertà, vale la stessa cosa per i precari degli enti locali, che costano un Euro di più, no, si fa una selezione, si fa quello che si deve fare per quanto riguarda 22 mila famiglie che io non so chi siano, non conosco i nomi neppure dei miei collaboratori, forse di uno o due il nome di Battesimo, così come figuriamoci i 22 mila e il 500, per carità poi votano come ritengono, grazie a Dio ancora, nonostante i potenti mezzi delle nuove tecnologie, micro camere o micro spie, il voto è segreto, quindi come dire, ciascuno faccia quello che vuole, ma lo farà liberamente, senza andare, ripeto, a elemosinare il diritto al lavoro per l'anno successivo.